Sarah e Harriet, due delle figlie di Michelle Fiers, sono venute in Italia dalla Gran Bretagna per il dissequestro del casolare, dove la loro mamma fu trovata priva di vita il primo novembre scorso, uccisa con nove coltellate. Dapprima le formalità di rito nella caserma dei Carabinieri di Casoli, poi la visita nell'abitazione di Contrada Verratti, dove la Fiers viveva con il compagno Michael Whitbread, suo presunto assassino, che si trova in prigione a Londra. Una visita breve, quella delle due donne accompagnate in auto del corpo diplomatico dalla viceconsole dell'ambasciata britannica a Roma. Sono rimaste meno di mezz'ora dentro la casa che Michelle, 66 anni, aveva scelto come dimora per trascorrervi la sua vita da pensionata, affascinata dal panorama di colline disegnate da oliveti e vigneti e dalla maiella. Una vita nuova, immersa nella natura, coltivando ortaggi e facendo giardinaggio. Le figlie sono entrate da sole nell'abitazione al primo piano, hanno messo in ordine alcuni vasi di fiori sul terrazzo rovesciati dal vento, ma non avrebbero preso nulla, torneranno a breve per i documenti e gli effetti personali della loro madre. Anche l'avvocato Massimiliano Sicchetti, legale d'ufficio del presunto assassino, ha avuto le chiavi del casolare che la coppia aveva acquistato insieme. Ad accogliere le figlie della vittima in caserma è intervenuto il sindaco di Casoli, Massimo Tiberini. La salma della vittima è stata riconsegnata ai familiari, ma non sarà rimpatriata. Michelle Fiers ha scelto l'Italia come sua ultima dimora.